musica 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 dove è Giorgio? ma si gioca qui? no perchè vedo che Giorgio stava preparando di nuovo le coppie guarda quanto sei ti giuro guarda ma quest'altro campo dove sei veramente Giorgio giustamente è vero che vorrebbe capire ma sta dipendendo come tutti i difensori però sono cinque anni che non prendo come hai tu? no 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 stai coprendo Tennis & Friends stai coprendo Tennis & Friends guardate 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 amo me le spinkeri ha scritto fantastico è fantastico è fantastico e l'altro piede lo colpire hai capito che c'è che appone notare l'elasticità ci siamo, ci siamo e vai vieni Fraci ma la palla pensa è meglio ma le magliette con Cina c'è le magliette del piccolo mondo non lo posso dire ricordo anche la presenza di RTL 125 la vostra radio presente anche per questa giornata in tutto questo abbiamo un giudice un po' speciale un arbitro un po' speciale ed è il nostro notario dato che nessuno mi dice nulla allora coppia 0,30 ok lì giù ci hanno fatto la figuraccia dai dai Paolo dai allora cambio di qua 30 pari 1,4 30 pari 1,4 è lì giù ciò sei ricercato ho vinto che sento Grazie a tutti. Grazie a tutti.